E' bella e brava lei, te lo dico Paolo, Florence De Mascina in sottofondo, è arrivato il nostro caro amico Paolo Tagliaferri. Buongiorno a tutti, buongiorno. Che è reduce da una serie di presentazione del suo nuovo libro stile, posta di donna e dente di cinghiale che trovate tranquillamente in libreria. Io sto quasi in chiusura, mi mancano 30 pagine. Poi mi dirai tutto. Te lo dirò in diretta. Allora, non mi è piaciuto questo. Sono contento, anche un po' affaticato, perché sono state due serate molto belle, una in enoteca a Cervetri, nell'enoteca Samnium, e da sconsigliare un reading in enoteca perché dopo un paio di bicchieri di vino bianco freddo, avevo una lingua che sembrava veramente una lonza. Non so cosa ho potuto dire, ma ero tranquillo perché erano tutti ubriachi dall'altra parte. E quindi è bellissimo. Una presentazione fantastica. Una presentazione di quelle che lasciano il segno e soprattutto non avete modo di vederlo, ma i suoi occhi sono veramente abbottonati. Sì, diciamo che è tipo vampiro col sole stamattina, è micidiale. E meno male che è estate, quindi un pochino il lavoro si sta tutendo, l'altra parte tua, il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Paolo Tagliaferri. Avete riconosciuto, rimane sempre Lana Del Rey, I'm Beautiful, sottofondo musicale di questa pausa caffè. L'hai preso il caffè Paolo? Ne ho presi 76, però questa mattina veramente a rilento. e lo prenderemo dopo. Dopo ne prenderemo un altro. Complimenti per la musica, Silvia, bellissima. Piano piano mi sto imparando. No, 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 bella, bella. Te la volevo fare da tanto, volevo fare da tanti complimenti, bellissime. Scegliamo sempre dei brani, anche a volte un pochino diversi, non i soliti. A volte sì, un pochino di quelli che si conoscono un po' e più, ma a volte anche un po' di musica ricercata. Poi io so per la musica straniera, mi dovete perdonare, ormai i miei ascoltatori l'hanno capito. Ogni tanto mi telefono, per favore, mi metti? Va bene, giusto perché me lo chiedete. Se me lo chiedono viene fatto, altrimenti di iniziativa vado così. No, no, ma fai bene. Senti, ma ieri c'è stata una tromba d'aria a Civitavecchia, qualcosa? Eh, guarda, non te lo so dire perché io stavo dalla parte di Santa Marinella a mare, quindi ieri era tutto nuvoloso e non so che dirti. A Santa Marinella era quel sole offuscato e così via. C'è stata che siamo dovuti fuggire a Santa Marinella venerdì pomeriggio. Sì, eh? Venerdì pomeriggio c'è tutto le sei o giovedì o venerdì, non mi ricordo che sono stata due giorni in ferie. Bravo. E sono andata un paio d'ore a mare, ho provato e a certo punto a Santa Marinella siamo dovuti scappare i lettini con gli ombrelloni che volavano sulla spiaggia. Eh, no, infatti, siamo messi un pochino paura perché poi non è la prima volta che a Santa Marinella, Santa Severa ci sono fenomeni del genere. No, è una stagione strana, eh, perché il freddo e il caldo insieme producono i vortici. E questa mattina qua pensavo che Torrolova si staccasse. Eh, ma io ho visto che è passata una tromba marina, io stavo ancora, diciamo, a Capolinaro, a Santa Marinella. Sì, sì. E vedevo questa tromba marina che andava verso il porto, ma quindi è passata qui? Qui, questa mattina, non so che cosa dirti, a un certo punto è diventato tutto nero e veramente qua fischiavano perché si sentiva, ho detto ora si staccava il quinto piano di Torre Europa e voliamo. Eh già. Ieri invece Piazza Trieste mentre leggevamo così si è alzato un vento incredibile, lampade che cadevano, fogli che volavano, Gino Saladini che mi teneva i fogli, però è stata una bella cosa. Finita la presentazione si è placato tutto. È sempre così, Paolo. È sempre così, non ti preoccupare. Senti, proseguiamo con questo percorso di scrittura creativa, ovvero per tutte le persone che sono all'ascolto e hanno desiderato, almeno una volta nella vita, di scrivere un libro. Io so che sono moltissime e Paolo ce l'ha fatta, l'ha scritto e quindi lui dice ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi. Assolutamente sì, io ho veramente 16 neuroni e alcuni a volte si riposano e quindi a cui stanno in panchina, quindi è veramente solamente di avere un po' di tecnica, poi se la storia che vede è buona è buona, se non è buona avete la tecnica ma la storia non è buona insomma. E quindi andate avanti, non vi scoraggiate. Andate avanti, arriverà la storia buona, non arriverà, non lo so, però intanto provateci perché non è, adesso non voglio essere insultato da tutti, ma insomma si può fare ecco, una cosa che si può fare, è alla portata di molti. Poi se uno scrive, l'ho detto, se scrive delle cose buone rimangono buone, se invece scrive robetta rimarrà robetta, però se uno ha il desiderio di farlo. Perché non farlo? Assolutamente sì. Se uno ha un desiderio, hai quel sogno nel cassetto, cerca di portarlo avanti e non demordere. Poi magari a volte ci sono persone solo portate, altre meno. Assolutamente. Viva la democrazia anche in questi casi, anche in questi casi, sempre, 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 sempre. Senti che metto in diretta la persona che sta chiamando. Ma sì. Eh dai, ora vi facciamo uno scherzetto. Radio Stella Città, buongiorno, siete in diretta. Spaventa questo della diretta. Sì, ha spaventato, che bello. Atterrisce, direi io sarei atterrito. E lo so, vabbè, chiamate, se chiamate perché volete parlare. Paolo, Paolo, su, andiamo avanti, vediamo. Oggi proseguiamo con questo percorso. Guarda, questo che mi accingo è... non leggerò niente perché è un libro piuttosto complesso. Sì. Però è molto bello perché è di Roberto Cotroneo, manuale di scrittura creativa. Roberto Cotroneo è stato un critico, è un critico, uno scrittore molto serio. Credo che facesse delle recensioni sull'Espresso. Era terribile. Tutti avevano paura di Roberto Cotroneo. È una persona molto seria, in gamba, molto intelligente. Il suo libro riflette, insomma, questa sua impostazione è molto serio. Analizza veramente, con un piglio quasi da matematico, tutte le varie figure, retoriche, narrative. Quindi è molto strutturato. Cioè, se lo leggete direi, mazza, quanto è difficile scrivere. Sì, è vero quello che scrive Cotroneo. Secondo me l'unico aspetto da tenere presente è che diceva anche Cerami l'altra volta, il libro di Cerami, cioè quando avete imparato tutte le regole, dimenticatevele e andate con il cuore. Quindi questo libro è bellissimo, è perfetto, però una volta che uno ha capito le regole anche di questo libro, deve anche giocarci con le regole. Mi sembra troppo strutturato, troppo rigido, un po' rigido. È bellissimo, è perfetto. Ci sono le digressioni di primo e di secondo grado, però quando lo si legge dopo si ha l'impressione di aver letto una cosa molto strutturata e molto matematica. Ecco, la matematica c'entra con la letteratura, però fino a un certo punto si deve ragionare anche un po' con il cuore. Perfetto. Ma infatti prima, proprio mentre c'era la pubblicità, mi è piaciuto molto quel discorso che riporta quel film storico dal titolo Carpe Diem. Eh sì, sì, è vero. Ti ricordi, no? Sì, sì, dove il professore, a un certo punto i ragazzi, come hai detto tu proprio, l'hai detto tu poco fa, gli strappa le pagine e dice basta, usate il cuore. Esatto, quando entra Robin Williams, il nuovo professore, prendono il libro di testo di poesia e il libro inizia così. Se dovessimo mettere su un diagramma cartesiano la poesia di, lui gli fa prendere la pagina e gliela fa strappare, perché la poesia, credo che prima di tutto vada letta, vada studiata, vada vista, vada votuta, vada interiorizzata. Se tu cerchi di analizzarla come se fosse su un diagramma cartesiano, insomma, sì, può andare come categorizzazione generale, ma poi non va bene. Condivido in pieno. Non va bene, quindi anche questo libro che è, ripeto, è veramente uno dei migliori che abbia mai letto, però è veramente molto schematico, sembra, insomma, molto, molto, molto schematico. Dice alcune cose veramente interessanti, eh? Sì. E cioè dice, sostanzialmente dice questo, perché uno deve leggere? Che cosa, perché si legge? Si legge per essere seduto. La letteratura è seduzione. È un viaggio, io lo definisco, è un viaggio, vuol dire che nel momento in cui ti beri la tua testa, esci fuori dalla tua realtà e cominci a immaginare altre situazioni, solamente leggendo puoi ottenere questo effetto. E devono essere scritte bene le parole, no? No, altrimenti, altrimenti te ne vai a guardare un bel tramonto, un quadro, quindi devono essere scritte bene le cose. Per essere scritte bene devono essere seducenti, cioè uno deve leggere il testo, deve essere seduto, come una storia d'amore. Ecco perché il libro, ho letto, ho iniziato a leggere quel libro, non ho potuto smettere fino alle cinque di mattina per finirlo. Come dicevamo prima, a mio avviso, spesso sono proprio le emozioni che riesci a trasmettere attraverso le parole, a tenerti incollato a quel libro, a fare le tre di notte magari, alzando gli occhi, dici, sono le tre di notte, domani devi andare a lavorare, ma eri talmente preso dal libro che proprio il tempo ti è volato. Esatto. E lui dice, deve essere una promessa narrativa, dall'inizio alla fine, tu devi promettere al lettore che gli farai vedere determinati mondi, lo accompagnerai, gli farai vedere dove va l'eroe, gli farai vedere la storia d'amore, gli farai vedere che succeda alla nostra eroina o al nostro eroe. È una promessa, adesso ti farò vedere, adesso vedremo cosa succede. È una tecnica che si usa sempre, anche in pubblicità, anche qui quando lo fai tu, dici, ma lo scopriremo dopo la pubblicità. Questo per tenere agganciati i lettori e gli ascoltatori. È un trucco positivo che viene fatto, ma è positivo che si utilizzi così. Lui dice, non... senti questo, allora il lettore è sempre accanto a voi, il dialogo è come se il lettore lo ascoltasse dietro una porta. Quando scrivete non dovete mai dargli la sensazione che gli state spiegando qualcosa, cioè non bisogna spiegare, non bisogna spiegare niente. Ultimamente qualcuno mi ha detto, ah ma che significa posta di donna e dente di cinghiale? Ecco. Ma perché ti devo spiegare che significa? Lo capisci leggendo il testo? Cioè, ti seduce il titolo? Ah sì, lo sai che è interessante. Ecco, leggi il libro, non perché debba vendere il prodotto, ma se io mi metto a spiegarti, allora significa perché sono due poste, te lo spadono a due mani. E infatti poi lo puoi scoprire, lo spiega il libro. Lo spiega, lo capisci. Lo capisci, però non è solo quello, perché c'è la storia d'amore, quindi la posta di donna è anche la donna, il dente di cinghiale è anche l'uomo, ma sono anche i trucchi che vengono fatti dagli agenti segreti. Insomma, c'è tanto. Se te lo spiego... E poi per il gusto di leggere, scusate, a volte si fanno delle domande, io ma che ne so, guarda te. Sì, sì, ma poi sai, a volte c'è anche quello che si chiama l'autore implicito, no? Sì. È quell'autore che tu, cioè che non sono io, è il significato che assume il testo per conto suo. Tu magari, Silvia, mi dici, Paolo lo sai che per me posta di donna dente di cinghiale è anche questo? E io non l'avevo valutato. Certo. E magari lo scopro grazie a te e dico, sì, hai ragione, Silvia, è anche questo. Non ci avevo pensato. Può capitare. Assolutamente. Assolutamente. Qui sta mettendo su Facebook le foto, io sembro un vecchio rimbambito. Allora, rendetevi conto quello che è stato l'effetto della serata amaro del capo. Bellissimo. Sono rimasto a parlare con un amico che ha un ristorante a Santa Marinella, penso fino alle tre di notte, e lui non so quanti amaro del capo ha portato, quindi mi chiedo scusa. È buonissimo, è un buon amaro, è un buon amaro, ti fa un'ottima compagnia l'amaro del capo. Sì, la mattina però ti lascia quella sensazione di avere un martello pneumatico in testa, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia, Paolo, è un'altra storia. Vabbè, io spero di non essere stato pesante, poi questi consigli, ecco, come dicevo, buon Cerami, il vecchio Cerami insegna. Vedi ora, anzi, lo scrivo proprio su Facebook, non notate la faccia assonnata. La faccia da storie, ricca di storia. Assonnata del nostro Paolo, e vediamo se qualcuno avrà il coraggio di dire qualcosa, perché qui ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio perché si vergognano tutti. Quindi, Paolo, allora, riassumendo rapidamente, manuale di scrittura creativa, Roberto Cotroneo, è un consiglio che tu dai a tutti i tuoi, agli ascoltatori e alle persone che hanno voglia, insomma, di intraprendere questo percorso. Poi il libro, abbiamo detto, puoi scrivere a qualsiasi età, puoi a 70 anni. Sempre, sempre, sempre. Dovete, in tutti i radioascoltatori, i loro desideri, i loro sogni, i loro speranze, scriveteli, scriveteli, buttateli su carta. Certo, cercate, ecco, di leggere qualche altra cosa, di leggere qualche libro di scrittura creativa per non fare un pastrocchio, insomma, un minimo, gli dovete dare un senso. Però buttatele giù le cose. È anche terapeutico, fa anche bene. Sì, è vero, questa la sapevo. Scrivere libera la mente e fa bene a tutto il nostro sistema, a tutto il nostro organismo. Poi non date retta ai professori, ai professori che incontrate sempre, non dico professori, ma ci sono un sacco di professori che vanno in giro a spiegare quello che deve fare o che non si deve fare. In genere sono persone che non fanno niente poi nella vita, però spiegano, come me ora, però spiegano, vanno a spiegare alle persone cosa devono fare, tu devi fare così. Non avrei creduto che tu potessi sapere questo, non avrei potuto credere che tu avresti potuto scrivere un libro, ma chi te l'ha detto, ma chi ti dà la patente per credere o non credere, ma chi sei, soprattutto per dire non avrei mai pensato, ah non ti ci facevo, ma perché tu chi sei, scusami, sei l'autorità preposta. La scuola dell'obbligo l'abbiamo finita da un pezzo, quindi andate liberi per il mondo, leggete, leggete tutto e se volete scrivete. Ecco. O bevete l'amaro del capo. O bevete. La pubblicità. Ora mi uccidono, da stamattina mi vengono fatti i nomi, io credo che fra poi arriveranno. Silvia! Non è colpa mia. Ma magari chiama, sono l'amaro del capo, voglio pubblicità un milione di euro, vi do un milione di euro. Sì, bene, dopo ragazzi mi prendo assolutamente la percentuale, eh. Così può essere questo altro che due giorni di ferie, magari riesco a prendermi un mesetto. Speriamo. Ce ne ho bisogno. Bene Paolo, io ti ringrazio. Con te appuntamento come sempre il prossimo lunedì intorno alle 11.35 e 40 con il momento di scrittura creativa. Ciao. Ciao a tutti.